Si è svolto questa mattina presso la chiesa di San Massimiliano Colbe a Lido Adriano il funerale di Don Marco Cavalli, parroco da 40 anni, nella località marittima. In tanti hanno preso parte alla cerimonia per dargli un ultimo saluto, occupandosi della parte esterna che la parte interna della chiesa. Don Marco era infatti molto amato dalla comunità, alla quale si era sempre dedicato con passione e devozione fin dal 1979. All'epoca la chiesa non era ancora stata costruita e fu proprio anche grazie al grande impegno del parroco che la parrocchia prese vita a partire dall'edificazione della chiesa di San Massimiliano Colbe. Ultimata nel 2003, Don Marco si è spento sabato all'ospedale di Ravenna all'età di 86 anni e tutte le offerte per il funerale verranno devolute, come da sua volontà, alle scuole di Lido Adriano, a cui era molto legato. Don Marco lasciarà sicuramente un segno di unità perché era un buon pastore ma che teneva unite sia la realtà della parrocchia che tutte le realtà civili. Ha fatto il paese, ha fatto Lido Adriano non soltanto dal punto di vista cristiano ma anche dal punto di vista comunitario e sociale. Un grande segno di perseveranza, di speranza, di bontà, di vicinanza a tutti. Personalmente io sono la prima vocazione sacerdotale che è nata qui in paese, sicuramente un grande segno di mitezza, vicinanza, un grande amico, un amante della natura, il rispetto del creato, l'amore per i piccoli e poi la grande perseveranza per l'educazione. Si è battuto tantissimo per le scuole qui a Lido ed è stato quel sogno che è stato realizzato per fortuna prima della sua morte. Quindi un grande segno di speranza e anche come sacerdote un grande testimonianza di dono a Cristo e alla Chiesa.